Gli 85 anni della tua vita non sono stati sempre facili, la crisi economica mondiale, la dittatura nazista, la guerra, la prigionia, eppure abbiamo sempre percepito la bontà di Dio che ti ha chiamato e guidato. Le note della commozione e dell'affetto si sono impresse sul pentagramma dei ricordi, ieri per Benedetto XVI, alla fine del concerto offerto dall'orchestra e dal coro dei Regischburger Dom Spazzen, in onore del fratello Monsignor Georg Ratzinger, maestro di cappella emerito, proto-notario apostolico, nella ricorrenza del suo 85esimo genecliaco. Nella suggestiva cornice della cappella Sistine è stata intonata l'atzemolmesse di Wolfgang Amedeus Mozart, espressione, ha sottolineato il pontefice, anche della profonda ricerca di perdono e della misericordia di Dio che poi si tramuta in gioia raggiante per l'esistenza del Padre Celeste. Tanti ricordi affiorati tra le parole pronunciate a braccio in tedesco dal Papa, soprattutto quelli in cui il fratello ha guidato questo coro di antichissima tradizione. In ogni gratitudine umana si cela sempre aspettativa, speranza e preghiera, ha concluso Benedetto XVI, per questo oggi preghiamo il Buon Dio affinché donne a te, caro Georg, ancora anni buoni in cui tu possa vivere la gioia di Dio e la gioia della musica, in cui tu possa ancora servire gli uomini come sacerdote. Grazie. 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 Grazie.